Si riaccende all'Aquila la polemica intorno alla residenza studentesca Borromeo di Coppito, realizzata all'indomani del sisma dalla Regione Abruzzo e poi data in gestione alla Curia grazie ad un atto notarile della Regione Abruzzo. I consiglieri comunali Enrico Perilli, Rifondazione Comunista e Giuseppe Bernardi, sinistra per l'Aquila, hanno presentato infatti un'interpellanza per chiedere rispetto dell'accordo di programma firmato nel giugno 2009 che prevede che la struttura realizzata con soldi pubblici su un terreno agricolo della Curia, reso dal comune edificabile proprio grazie all'intervento, si è gestito dal pubblico attraverso l'Azio e non dalla Curia. Lì c'è un accordo di programma che prevede la realizzazione di quella casa dello studente su un terreno inedificabile. Grazie a quell'accordo di programma quel terreno è diventato edificabile. Le condizioni è che quella casa dello studente costruita con soldi pubblici, perché i soldi della Regione Lombardia sono pubblici, dovesse essere gestita in maniera pubblica dalla Regione o dall'azienda diritto allo studio. Così non è stato perché è stata data ad un'azienda che fa riferimento alla Curia ed è gestita in maniera privatistica. Ripeto, l'accordo di programma sosteneva che doveva essere gestita in maniera pubblica, quindi bisogna riportare il rispetto delle regole lì dove sono state violate. Ecumeniche di segno opposto, la lettura data alla vicenda dall'arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Molinari. Dice un proverbio che non c'è più peggior sordo di quello che non vuole sentire. La vicenda è molto semplice. La Regione Lombardia voleva realizzare questa casa dello studente. In quel momento l'unico ente che poteva offrire un terreno è stata la Diocese, l'ho offerto volentieri. La Regione ha affidato alla Diocese la gestione di questa casa. Un responsabile di una delle nostre istituzioni, più di uno ci ha ringraziato dicendo meno male che ci pensate voi perché per noi sarebbe stato un problema poter gestire questa casa.